Buongiorno e buon caffè biblico a voi. L'esperienza che vi racconterò spero rafforzi l'idea che le storie bibliche offrono significati più profondi di quelli offerti da una lettura esclusivamente alla lettera superficiale. Dio sa essere proprio cattivo. È un'espressione che ho sentito dire da una persona, la quale non intendeva tendenziosamente mancare di rispetto a Dio, quanto più dire la verità con onestà intellettuale, così si espressa. Per essere intellettualmente onesti Dio è piuttosto cattivo. Questo Dio mi ha detto. Mi ha citato eventi narrati nella Bibbia per rafforzare la sua idea, uno dei quali era connesso a Israele nel deserto. Il popolo di Dio si trova a girovagare per un deserto, di per sé, secondo la persona di cui vi parlavo, una cattiveria notevole. A poco serve spiegarle che quella è una punizione perché il popolo, dopo essere stato salvato con miracoli e segni, si allontana da Dio e lo tradisce. Serve a poco in quanto la persona ribatte, eh ho capito, però ci va giù pesante, cattivello mi sembra. E per rafforzare il concetto mi cita altre punizioni che il popolo sperimenta nel deserto appunto. È comprensibile, ma il deserto è anche un'allegoria di qualcosa di spirituale, non solo fisico. Il deserto è il luogo della dipendenza da Dio, il deserto è il luogo della tua vita in cui riscopri i tuoi limiti, in cui sei costretto a scegliere, a dipendere da altri e a dipendere da Dio. Il deserto è il luogo dove sperimenti il cibo che viene dal cielo, la manna, poiché quando tutto è sotto il tuo controllo vivi un'illusione, ma quando ti ammali e manca qualcosa dipendi dai medici. Quando i medici non sanno che fare, spesso chiunque cerca conforto nella preghiera, nel rivolgersi a Dio, magari anche senza conoscerlo e senza capire a chi rivolgersi bene, ma essendo l'ultima spiaggia è lì che va. Insomma la Bibbia è parola di saggezza quando parla anche di deserti applicabili alla vita umana di chiunque, non solo del cristiano, cioè tra quelle righe c'è una sapienza divina sfruttabile anche dal non credente. La persona mi disse che trovava inaccettabile la vicenda dei serpenti nel deserto, tornando proprio a quel contesto. Sentite, ve la leggo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto, poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati da questo cibo tanto leggero, si riferiscono alla manna. Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi i quali mordevano la gente e gran numero di israeliti morirono. Certo può essere visto come una radicale punizione per la serietà del peccato commesso di parlare contro Dio, ed è vero insomma, ma c'è di più. Il popolo si lamenta contro Mosè, si lamenta contro Dio, è privo di ogni speranza, non ha intenzione di vedere nessuna terra promessa, piagnucola e strilla perché preferisce l'Egitto preferisce la schiavitù alla libertà che adesso ha per le mani. E uno degli insegnamenti delle sacre scritture qui, e che vale per tutti in effetti, è semplice quanto potente. Se sei in una situazione difficile, se vivi un momento duro della tua vita e inizi a rimpiangere la schiavitù, a rimpiangere quando qualcun altro decideva per te, a rimpiangere un tiranno che ti dica cosa devi fare, purché ti renda la vita più facile e la pancia più piena, quando nel tuo deserto inizi a deresponsabilizzarti, a perdere ogni speranza, a chiamarti sempre comunque vittima delle cose, tu puoi stare certo che le cose andranno molto peggio. Molto peggio. Arriveranno i serpenti. Arriveranno i serpenti. L'insegnamento è proprio semplice. Nei nostri deserti, primo poniamo la fiducia in Dio, secondo riconosciamo la nostra dipendenza, terzo cerchiamo aiuto in Lui e negli altri, perché siamo fragili, siamo un filo d'erba, duriamo quello che duriamo. E da questa esperienza ne usciremo più adulti, più forti, più umili. Tutte cose che Dio vuole garantirci, vuole darci. Dio ci benedica nei nostri deserti e nella comprensione della sua parola in profondità.